Hola, 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 aspetta Max, eccoci, ciao Max, come stai? Ciao a tutti Giammazza, siamo sintetici e non ero pronto ancora col cambio di te, di solito Max inizia a bomba e quindi ero invece... E che t'ho interrotta a metà, stai dicendo ciao e capivo che volevi dire qualcos'altro, allora mi sembrava di prenderti già dello spazio Sì, 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 in realtà ti volevo chiedere una cosa Max, ascoltami, siccome io devo venire a Bologna, ti volevo chiedere, quest'estate vengo a Bologna, ti volevo chiedere se ci fai un elenco di tutte le volte in cui fate un agora in piazza o viene Beppe Grillo in piazza perché sennò ho paura di trovare i mezzi di Bologna in sciopero, c'è questo problema a Bologna? È strepitoso, è una casualità, una clamorosa coincidenza, non voglio nemmeno pensare che ci sia qualcosa sotto, non lo voglio, proprio lontano da me questo pensiero Però è un dato di fatto che sabato pomeriggio avremo Beppe Grillo qui in piazza Bologna Mi sa che oggi abbiamo la connessione con Max E vabbè ci mancava qui, effettivamente ci mancava, era un po' di tempo che... Allora, sintetizzo io, in pratica che è successo? Succede che è già la seconda volta in cui a Bologna, quando c'è un evento del Movimento 5 Stelle Quando c'è un evento del Movimento 5 Stelle a Bologna c'è sciopero degli autobus Ed è successo già all'ultima agora, ecco di nuovo Max, Max stavo raccontando io quindi raccontalo meglio tu Perfetto, no, non so dove siete arrivati a sentire Comunque dalle 16.30 alle 20.30 abbiamo la piazza e hanno deciso di convocare uno sciopero dei mezzi di trasporto, dei bus Dalle 12.30 alle 16.30 di sabato pomeriggio, cosa mai avvenuta, insomma Io non ho mai visto uno sciopero di sabato pomeriggio E già qualche settimana fa, quando c'è stato il Non ci fermate tour Che abbiamo avuto a Bologna i parlamentari sospesi In quel caso alle 21.00 di sera, li avevamo in una sala qui da noi a Bologna E CGL e Cislewino hanno convocato uno sciopero in quel giorno Dalle 18.00 alle 21.00 di sera Sono due curiose coincidenze Io non voglio pensare male Infatti Max, scusami, da ex sindacalista te lo devo dire io Gli scioperi bisogna, gli scioperi di qualsiasi società, azienda che fa un servizio pubblico Devono mantenere una fascia di garanzia di rispetto del servizio La gente quando finisce di lavorare, che finisce alle 21.00 È logico che prende e deve ritrovare di nuovo il mezzo Non è che deve trovare il mezzo al pomeriggio quando finisce di lavorare alle 17.30 alle 18.00 Ormai finiscono alle 21.00 Perché dopo il job act la gente lavorerà come schiavi fino alle 21.00 Di sabato, di sabato, apriranno di sabato No dai, è stata veramente clamorosa L'unica cosa è che secondo me Molti autisti parteciperanno allo sciopero, aderiranno allo sciopero Per poter venire in piazza prima possibile In modo da essere nelle prime posizioni Fra l'altro c'è la strabologna La corsa, 12 km di corsa, la famosa corsa cittadina Di domenica E allora noi avevamo chiesto piazza maggiore sabato Ma non ce l'hanno data perché c'è la strabologna domenica E quindi dicono, ci fidiamo, che devono fare i preparativi Per manifesti, palco, luogo per le bevande e simili Allora siamo andati già in una piazza più piccolina Una piazza più piccolina, insomma 200 metri da piazza maggiore E sarà un pochino difficile raggiungerla con i mezzi pubblici Perché molti autisti probabilmente faranno sciopero Però credo che quella piazza sarà strapiena lo stesso Anche se dovesse venire la neve, le cavallette e quant'altro Bravissimo, bravissimo L'anno scorso allo tsunami tour, ti lancio un'idea Vabbè no, ti dico quello che abbiamo fatto Non è che ti sto lanciando un'idea L'anno scorso a Brescia durante lo tsunami tour Abbiamo avuto un problema analogo Avevamo chiesto una piazza, non ce l'hanno data Ce l'hanno data un'altra Poi ci siamo spostati A fine comizio ma ci siamo spostati Con le maschere del V per vendetta Se l'è messa anche Beppe E siete tornati nell'altra piazza Sì, sì, abbiamo fatto un piccolo video per l'altra piazza No, la cosa carina è che la piazza che abbiamo preso Si chiama Piazza San Francesco E quindi insomma anche un valore simbolico Per il Movimento 5 Stelle È molto più piccola però Allora è Repubblica Non, pur sapendo benissimo come sono andate le cose Repubblica non ha descritto E ha fatto un articolo Fammi indovinare, fammi indovinare Repubblica avrà detto, vediamo Io non prendo Repubblica a Bologna Non ho letto Repubblica avrà detto Max Bugani ha paura di fallire a Bologna E per far vedere Pur di far vedere una piazza piena Invece di affrontare la mara sconfitta Ha scelto una piazza più piccola Ci sei andato molto vicino Non hanno fatto il mio nome Ma hanno detto Il Movimento 5 Stelle In piazza San Francesco Sul crescentone In piazza Maggiore S'arrischia solo la lista Tsipras Vabbè ma voi riempite Senti Max Vabbè ma ascoltami Puoi fare una cosa Potuto andare la lista Tsipras Credo che se avesse preso una sala Da 200 posti Probabilmente avrebbe fatto Miglior figura Ma non voglio gufargliela Non voglio gufargliela Riempiranno piazza Maggiore Ascoltami Max Io non so se tu hai visto Che la lista Tsipras Ha fatto un cambio comunicativo Notevole Ha fatto un cambio comunicativo Notevole Perché hanno capito L'importanza Dell'immagine Dell'immagine Di un partito pulito Di un partito sano Di un partito liscio Di un partito senza cellulite E hanno postato Il culo Della Bacchiddu Che è la responsabile Della comunicazione di Tsipras Ha fatto una bella foto Quasi a 90 E aspetta che leggo Perché me la sono segnata Ha fatto il tweet dicendo È iniziata la campagna elettorale Io uso qualunque mezzo Quindi Noi Siamo indietro Da questo punto di vista Noi Ancora non abbiamo capito Vedi mi viene da starnutire Quando dico troppe cazzate Non abbiamo ancora capito Qual è il livello E due starnuti Di comunicazione A cui bisogna ambire Ed è questo Quello Che ci ha insegnato Papà Silvio E il popolo della sinistra Ha finto di odiarlo Ma alla fine Lo sta copiando in tutto Pure con le veline In copertina Per la campagna elettorale Poi se noi alla camera Facciamo gli interventi Dove ricordiamo alla Carfagna Che faceva la velina Siamo sessisti Siamo volgari Loro prendono e fanno le foto A 90 gradi E no Perché è radical chic Diventa Non potete capire Perché loro Di sinistra Giocano Sull'immagine berlusconiana E quindi la usano Ma loro la usano In maniera Pensata In maniera riflessiva Mica così No no Poi il loro nudo È un nudo d'arte Cioè non scherziamo C'è un conto Sono i calendari Da sboldra Che hanno fatto altri Loro invece hanno Un nudo artistico E poi un bikini Diciamo la verità È un bikini Ma loro sono raffinati Hanno giocato Sull'ironia E non vogliono Assolutamente Far parlare di sé Tramite il sederino Della Becchiddu E una però Si è incazzata Perché Oggi stavo un po' Cercando su internet Lorella Zanardo Che è Quella Quella ragazza Che ha fatto Quel bellissimo Penso che l'hai visto Bellissimo documentario Su il corpo delle donne Non l'hai visto Per far una brutta figura Hai trovato modo Per farla Ma è di qualche anno fa Te lo consiglio Cerca su internet E lei è candidata Con Sipras E L'hanno chiamata Per commentare Per commentare Il culo Cioè il culo La notizia del culo Della Della Bacchiddu Cristina stai Ok Per commentare Il culo Della Bacchiddu E lei ha detto Ho 56 anni Due master Un programma Per i diritti Delle donne Di grande impatto Nessuno parla di noi La nostra presenza Sui medi È pari allo 0,02% E lei Mi telefona Per il culo Della Bacchiddu No scusi Non ho nulla Da commentare Ecco brava Zipras Ben arrivati Ben arrivati Nel mondo reale Sì Sì ma poi Voglio dire Non è che Te l'ha fatto Te l'ha fatto Te l'ha fatto Un fotomontaggio Del sederino Della Bacchiddu Bacchiddu o Bacchiddu? Bacchiddu Bacchiddu L'ha fatta lei Che è responsabile Della comunicazione Quindi State sereni Vi direi State sereni Dai Però Senti Diciamo che Una cosa Spezziamo una lancia Contro questa lista Zipras Stanno facendo Esattamente Quello che ha fatto Ingroia Quello che fece Ingroia L'anno scorso Ovvero Stanno raccatando Personaggi Più o meno famosi Per fare Una lista Dov'è la sinistra? Dov'è? Ma non C'è vera me Io Insomma Sono cresciuto Qui nella terra Rossa Rossissima Io ho visto Degli ideali Con delle persone Vere Che ci credevano Davvero Delle persone Che sudavano Che andavano Nei circoli Che andavano In strada Per farci conoscere Adesso la sinistra È Tsipras Questa qua La Bacchiddu È una cozzaglia Di nomi Attori Starlette Buttate dentro Perché Dai 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 Ci serve Ci serve Per numero Veramente Credevo che Ingroia Avesse Ben dimostrato Come Una strategia Di quel tipo È assolutamente Fallimentare E invece C'è chi Ancora Voglia di Copiarle Eh sì Senti Tornando al discorso Della piazza Io ti consiglierei Visto che Un Ok ci sei ancora Visto che appunto Abbiamo Abbiamo scoperto Grazie a Vedo l'immagine Di Max Bloccata Infatti è andato Via No forse ci sei Ci sei Ci sei Io ti sento Ok scusami Per riempire La piazza Io ti consiglierei Di scrivere A Santoro Perché Santoro Non so se hai notato Ha detto che Noi esistiamo Grazie ai talk show Quindi grazie a lui Quindi chiederei un appello A Santoro Per aiutarci Sì Santoro Proprio ha detto Che Grillo E Renzi Ha detto Gli amici insieme Gli abbinati Esistono Grazie ai talk show E quindi anche Grillo Dovebbe ringraziare I talk show Che L'hanno Gli hanno dato vita Praticamente Dimenticandosi Di 35 anni Di onorata Carriera Di Beppe Grillo Nei teatri Nei palastetti Senza Andare in televisione Con teatri Sempre pieni Palastetti Sempre pieni Quindi Ha proprio fatto Penso Il riferimento Sbagliato Se c'è una persona Che si è costruita Una credibilità Strapopolare Sudandosi Ogni Millimetro Di Se non era caduta Prima È caduta No Ci sei Ok Fin dove siamo arrivati La credibilità In 35 anni Di carriera Di una persona Che è andato Su e giù Per l'Italia Tutta la vita Contatto diretto Con le persone Senza mai Sfruttare Il mezzo televisivo Quindi È assolutamente L'esempio Sbagliato Poi ha detto Che La rete Non può sostituire I talk show I giornalisti Perché nella rete C'è un forte rischio Di fondamentalismo Allora bisognerebbe Spiegargli anche qua Santoro Forse Travaglio L'ha già capito Più di lui Che la rete Invece È l'unico mezzo Che consente Un contatto diretto Fra le persone Siano essi famosissime O semplici cittadini E E Gli altri E quindi È molto diverso Invece dal fenomeno televisivo Che fa Come abbiamo sempre detto Mille volte Cadere tutto dall'alto E fa sembrare Degli imbecilli Come dei messia Qualunque persona Entri in televisione Ne parli Diventa Un divo Diventa qualcuno Che è superiore a te Invece la rete Questo livello Lo toglie Quindi sei alla pari Puoi tranquillamente Discutere con Il parlamentare Del movimento 5 stelle Cosa che Fino a Un anno fa Nessuno S'era mai Sognato di fare Se volevi parlare Con un Fini O un Bellusconi O un Letta Attaccavi al tram E può succedere Addirittura Che un pazzo furioso Che si mette Le sacome di cartone Poi possa Prendere e parlare Con uno delle star Del movimento 5 stelle Come Max Bugani Sono io Che ho l'onore Di parlare Con un pazzo Che sale Nelle macchine E parla Con intervista Tutti i personaggi Più famosi Della politica italiana Tubiamo Tubiamo dopo Senti No A me Santoro È una di quelle ferite Un po' come Come la sinistra Perché vengo da quel mondo Io avevo anche finanziato Il progetto Di servizio pubblico Avevo dato I famosi 10 euro E secondo me Quando è stato Buttato fuori Abbiamo avuto Un momento In cui Poteva nascere Una trasmissione diversa Proprio lì a Bologna Proprio lì da voi Io non so Se avete avuto La fortuna Visto che è stata fatta Lì a Bologna Di andarci Io quella trasmissione lì L'ho vista E mi era piaciuta tantissimo Perché non parlavano i politici Cazzo Parlava la gente E ci avevo creduto Ci avevo creduto E poi invece si è perso Si è perso Nei meandri Anche lui Ha dei momenti Di giornalismo Più corretto Rispetto Rispetto agli altri Io per primo Lo devo ammettere Perché Nel mio caso Quello del video Della Boldrini Con le polemiche Servizio pubblico È stato l'unico L'unica trasmissione Che ha fatto vedere Il video per intero E ha riportato La discussione Sulla dimensione del video E quindi L'ha tolto L'attenzione Dai commenti Non ha fatto Quel gioco sporco Che hanno fatto Tutti quanti gli altri Però non basta Secondo me Lui è Sicuramente Uno dei migliori giornalisti È molto più bravo Di tanti altri suoi colleghi Però non sta capendo Cosa sta avvenendo Alla sua mestiere Al suo ruolo Alla televisione A quello che lui Ha conosciuto Fino ad oggi Come unica Legge Della sua vita Quindi Sta Veramente Ha avuto Per quello che dicevi tu Lui ha avuto Una grandissima occasione Che non ha saputo Sfruttare Perché Quei dieci ero Che gli hai dato tu Gli ho dati anch'io E gli hanno dato Tantissimi altri cittadini Ed era Se lui l'avesse sfruttata Un'occasione straordinaria Per Anticipare Il movimento Cinque stelle Di qualche anno Perché Era una forma Di informazione Diretta Che invece Travaglio Ha capito Perché nel momento In cui Travaglio Apre un giornale Che non gode di finanziamenti E vive solo Del contatto diretto Con i suoi Lettori E con gli sponsor Che in base al numero Di lettori Che ci sono Decidono di Sponsorizzare Il suo giornale È riuscito A tenere in piedi Un giornale A farsi un nome A diventare Molto celebre A scrivere libri Che vengono stravenduti Quindi Travaglio ha capito Che la rete Era un'occasione Straordinaria Da sfruttare Santoro C'ha illuso Ma in realtà Ha usato la rete Semplicemente Perché Aveva bruciore Allo stomaco E cercava Qualsiasi mezzo Per restare Attaccato Al treno Della televisione E ha sbagliato Ha fallito Non ha capito Se lui L'avesse sfruttato Probabilmente Sarebbe stato Un colosso In rete Di informazione Un grande precursore E invece Lì è arrabbiato Perché Poi perché dice queste cose Perché sta vedendo Che calano gli ascolti Cala l'audience Calano i finanziamenti E la sponsorizzazione E i programmi televisivi Non ha capito Non ha capito È vero È vero Si è perso Infatti Travaglia Adesso sembrerebbe Che Travaglia A Santoro Divorzino Sì C'è questa voce Che sembra Più di una voce Insomma Il prossimo anno La trasmissione Dovrebbe passare Anno 1 Si dovrebbe chiamare Dovrebbe passare In mano La Giulia Innocenzi Già ho detto tutto Per far capire Gli errori Compiuti Da Da Santoro E quante Quante occasioni Ha perduto Lui vede Vede Travaglio Come Una persona Troppo Probabilmente Libera Nel senso che Lui si dice Un liberale Santoro Io sono sempre stato Un liberale Sì Però forse diciamo Non sei mai stato libero Liberale e libero Sono due cose Diverse Il secondo è un giornale Tra l'altro Come? Il secondo è un giornale Sì esatto No e quindi Secondo me Sta vedendo comunque In Travaglio Una persona Che strizza l'occhio Al Movimento 5 Stelle Invece dal nostro Punto di vista Poi per l'amor di Dio Anche il nostro Punto di vista È criticabile Travaglio È un uomo libero Che sta valutando Le cose Sta raccontando Le cose Per quello che sono Santoro Ha bisogno Di Vauro Che fa tutte le battute Da comunista Storico E che quindi Grillo Un fascista ricco Ha bisogno Di ospiti ogni tanto Che diano questa visione Ha bisogno Della rissa In studio Ha bisogno Dell'urlo Ha bisogno Del povero Disperato Che va a piangere In televisione Tira due nomi A tutti i politici Che ci sono Ha bisogno Di queste figure Perché lui Tiene in piedi Un mezzo Televisivo Uno show Televisivo Che però Non ha più preso Comunque Sta perdendo Quella forza Straordinaria Che ha avuto Negli anni passati E comunque Concludo Ringraziando Santoro Per il buon giornalismo Che ha fatto O comunque Molto migliore Di quello che facevano I suoi colleghi Sì 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 Sono d'accordo Senti Sei contento Che finalmente Abbiamo convinto Uno degli esponenti Maggiori Del Partito Democratico A passare Nel Movimento 5 Stelle Fassino Ha finalmente Usato Il nostro Primo saluto Che era questo Verso Ma come cavolo Si fa Fassino Ma come si fa Guarda Non so neanche Cosa dire Di questa cosa È talmente Imbarazzante Di bassissimo Livello Lo raccontiamo Per chi non l'ha visto Ma credo Che chi ci ascolta Abbia sicuramente Ha seguito Questa vicenda A Torino Si parla Dello stadio Storico Fiesole No scusate Fiesole Commemorazione Per la collinetta Non mi viene Non mi viene Lo stadio Non mi viene Neanche a me Ricostruito Per la società Di calcio Torino E Fassino Ha promesso Che l'avrebbe rifatto Però Dal pubblico I tifosi del Torino Siccome Fassino Un grande tifoso Della Juventus Gli hanno detto Sei un gobbo di merda Sei un gobbo di merda E lui Sindaco Della città Davanti A qualche tifoso Che Insomma C'è un coro E tu Voglio dire Scendi dal palco E dici Ai giornalisti Mi dispiace Per questa contestazione Mi sto impegnando Invece Non ha trovato Nulla di meglio Che fare Un bel Dito medio Ai tifosi del Torino Che l'hanno presa bene Sì 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 Sicuramente Sì 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 E chi è che ha ripreso Il tutto Guarda caso Un certo Vittorio Vittorio Berta Esatto Sicuramente Non si aspettava Di essere ripreso Ma ormai Se vai in pubblico Devi sapere Che hai Telefonini E telecamere Da tutte le parti Quindi Anche lui Come D'Ambrosio Quando ha dato La pizza in faccia Alla Loretta Alla Camera Subito dopo Ho detto No no Non ho fatto Nessun gesto Nessun cosa Come i calciatori Quando fanno Il fallo Da rigore Poi no no Non l'ho toccato Non l'ho toccato Non l'ho toccato Stadio Porca miseria Non mi viene in mente Ragazzi Vabbè Tanto la notizia Era il dito medio Sì ragione Però Non mi piace D'appassionato Il calcio Philadelphia Oh Ah è perché Dovevi pensare Cucina Per quello Che interveniva Esatto Esatto Senti ma Quindi Da appassionato Di calcio Sei contento Che abbiamo Un nuovo interlocutore Con le forze Dell'ordine Quando Quando dobbiamo Muoverci Dobbiamo andare Dalle parti Di Napoli Possiamo chiedere A Carogna Ma come si fa Ma come si fa Cioè Ragazzi E Renzi Era allo stadio Il presidente Del consiglio Anche Grasso Come Anche Pietro Grasso E anche Pietro Grasso Erano allo stadio Ridevano E scherzavano Tra di loro In attesa Che arrivasse Il calcio D'inizio Quasi Scocciati Da questo ritardo Procurato Da tutti questi problemi C'è una persona Povero lui In fin di vita In condizioni Molto gravi E il grande Jenny A Carogna Parla con i giocatori Con gli allenatori E decide se La partita può essere Giocata o meno Quindi è il prefetto Il prefetto È Jenny A Carogna E questi invece Che uscire dallo stadio Indignati E dire Siamo allo sbando Questa partita Non deve essere giocata Mi prendo io Come premio Alla responsabilità E poi se Un prefetto Avesse voluto Far continuare La gara Insomma Avrebbe dovuto Rispondere direttamente Al popolo italiano Al presidente del consiglio E invece lui È stato lì È stato lì Ad aspettare Il fischio d'inizio Perché c'era La sua Fiorentina Contro il Napoli C'è una cosa ignobile Uno stato In uno stato forte Con una politica Decente Con un diritto In questo paese Ancora In essere Jenny La Carogna Sarebbe Jenny Il coglionazzo Sarebbe Jenny Lo stronzone E invece No E invece È Jenny A Carogna Che decide Lui Se una partita Può essere giocata Almeno In quelle condizioni Rendiamoci Rendiamoci conto Di quanti livelli Di potere Dello stato Siano stati Buttati giù E quindi Siano cestinati Davanti A una scena Del genere Vuol dire che Siamo Allo sbando Siamo il paese Dove tu puoi fare Tutti i reati Falsi bilancio Che vuoi E al massimo Vai dieci giorni A badare Gli anziani In un ospizio Diciamo Questo paese qua Non siamo più credibili Da nessun punto di vista Condoni Scudi fiscali Indulti Non so Veramente Cosa dire Un paese Completamente Da rifare Mi viene quasi Da dire Ragazzi Sarà molto Più dura Di quello Che ci immaginiamo Governare Questo paese E provare A rimetterlo In piedi E' vero E' vero No ma a me guarda Onestamente Più Più di Jenny La Carogna A me mi fa Mi fa senso Mi fa senso Come abbassa Le braghe Lo Stato Cioè tu dai Tu legittimi Una persona Come dicevi a tu Appunto Come Jenny La Carogna Viene legittimata Dallo Stato Da tutti i livelli Dello Stato Poi potrebbe anche Esserci A livello Di Di sicurezza Che in quel momento Non È stato più corretto Non bloccare Tutto Però il giorno dopo Vai da Jenny A Carogna E da tutti gli altri Li prendi E E li metti Dove Dove devono stare E vai pure Da quelli Che non l'hanno presi Fino adesso E non l'hanno Lasciati liberi Di fare Quello che fanno E Basta Incredibile Veramente Beppe Nell'intervista Sky Tra l'altro Una bellissima Intervista Sky A mio avviso Do il mio parere Secondo me Fabio Vitale È un giornalista serio E Molti hanno detto Eh ma lo interrompeva Sì ma lo interrompeva Facendogli cambiare discorso Ma poi gli lasciava Gli lasciava Spiegare le cose Questo secondo me Si chiama giornalismo Nel senso che Ti faccio domande Perché In 30 minuti Ti voglio far parlare Di più temi Ma Ti lascio Fare una frase Di senso compiuto Formigli Una frase di senso compiuto Non la fa fare a nessuno Quindi secondo me Formigli Non è un buon giornalista Anzi forse È uno dei peggiori E Dicevo Beppe nell'intervista Ha detto Ci rendiamo conto Che questo succede Perché c'è chi chiama I pregiudicati Al Nazareno Per fare le leggi elettorali Per fare accordi Ovviamente Ha forzato Ha accentuato Il concetto Ma È così No 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 È molto Guarda Ma dirò di più È molto più legittimato Jenny Agarogna Come Come referente Di quelle persone Che sono andate Lielo stadio È molto più legittimato Una figura come lui Di una figura Come Berlusconi Che prende Viene buttato fuori Condannato e tutto E viene legittimato Da chi Da Napolitano Da Renzi Continuando a chiamarli Continuando a prendere Come interlocutore Quindi Tutta la vita Comunque ragazzi Berlusconi è nel panico Berlusconi è nel panico Evidente Non ne sta azzeccando una Non ha mai gestito Così male A mio avviso Una campagna elettorale E invece mi dà l'idea Che sia proprio Nel panico totale Che abbia sondaggi in mano In cui lo danno In drammatica decrescita Per loro Perché anche come Ha gestito il rapporto Con Renzi Prima il mio amico È simpatico Il mio erede Con lui si possono fare Grandi cose Finalmente un interlocutore Serio nella sinistra Poi ho capito Che questa cosa Lo stava stritolando E ci stava guadagnando Solo Renzi Allora No ma è un simpatico Tassatore Una persona Di cui bisogna diffidare Attenzione Eh no Non sta facendo Quello che abbiamo promesso I nostri patti Potrebbero saltare Poi probabilmente Napolitano gli ha detto Attenzione Che qua se saltano i patti Noi ti rimandiamo al gabbio Allora Il giorno dopo No ma i patti restano Però il problema è Grillo Che è come Hitler E la sua è una setta Attenzione È molto pericoloso State attenti A quel punto ha detto Vabbè Renzi Ma 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 fregato Qui non riesco più A A muovermi Ad avere spazio di manovra Però C'ho ancora i voti Di Beppe Grillo Che posso andare a prendere Racconta alle televisioni Che è un dittatore Che è Hitler È scomposto È scomposto E in dieci giorni Ha cambiato Dieci volte strategia Quindi credo che davvero Forza Italia Sia il partito In più netta crisi Grazie a Dio Perché Diciamolo Ci hanno devastato Però mi sembrano proprio loro Quelli In assoluta difficoltà Comunque finalmente Fra gli elefanti Che stiamo combattendo Ce n'è uno Che finalmente È venuto in nostro soccorso Max Non so se lo sai Abbiamo l'elefante Dei sindacati confederali Soprattutto la CGL Che ha capito Che cosa sta succedendo Ha sbattuto i pugni Sul tavolo Che se lo faceva prima Lo mettavamo nel video nostro Di lancio E si è svegliato Giusto Ho capito bene Nella tv del regno Hanno detto questo Guarda la CGL Mi fa ridere Lo vedo anche In comune a Bologna Ma lo vedo anche A livello nazionale Seguendo i loro interventi Sono Dei grandissimi paraculi Diciamo la verità Diciamo le cose come stanno Hanno finto per 30 anni Di fare Lotte sindacali In realtà Hanno lasciato Che in questi 30 anni Venissero disintegrati Tutti i diritti Conquistati Col sudore Col sangue Dai nostri nonni Dai nostri padri Dai loro nonni E dai loro padri E oggi si sono accorti Che questo non gli è bastato Per diventare forti Perché loro Affigliandosi così Al partito democratico Ed essendo Un organo di partito Un braccio Del partito Più che Un sindacato Pronto a difendere I diritti dei lavoratori Si sono accorti Che oggi La strategia Comunicativa Di Dai stiamo insieme Che abbiamo vantaggi Entrambi Stiamo crescendo Guadagniamo di più Noi nei sindacati Dai le figure apicali Sono più ricche Si sono accorti Che non paga più Che anche loro Stanno crollando Che i lavoratori Si sono stancati Non si sentono più Rappresentati Da questa gente Vanno sempre di più Verso sindacati Autonomi Liberi E più rabbiosi Più nuovi Più freschi E quindi Ora la CGL Di colpo Finge di cambiare Strategia E quindi Criticano duramente Renzi E a mio avviso Non sono minimamente Credibili Hanno Hanno Disilluso Milioni Milioni Di persone Io mi ricordo Quando Cofferati Andò a Roma C'ero anch'io C'ero anch'io Max C'ero anch'io Ero fra quegli illusi Che pensavano Che il signor Cofferati Non sarebbe finito Sindaco di Bologna Per Quattro cipolle E poi Per Una donna Avrebbe abbandonato Anche Bologna Dicendo che Era Un impegno Troppo gravoso Sindaco di Bologna Non poteva più Mantenerlo Visto il suo nuovo Amore E il suo nuovo Piccolo figlio E poi È andato in Europa Candidato all'Europe Ed è diventato Parlamentare europeo Quindi una persona Fra le più ridicole Che la politica italiana Abbiamo mai conosciuto Lo dico con un po' Di accredine Perché In lui In quei discorsi In quelle parole Io ci avevo creduto Invece Era solo Il comunicatore Migliore Anche lì Che aveva Come Renzi Oggi E il comunicatore Migliore Che aveva allora In mano La sinistra E ce l'avevano A capo del sindacato Da sfruttare Per Prendere voti Sì 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 Quella fu Una bella piazza Ma io Di quelle Che ho Visto io Che ho vissuto io In prima persona È stata la piazza Più grande Più grande Una bellissima giornata Veramente Veramente Bella Sentivi una bella energia Ed è questa L'amarezza Che ti lasciano Io quando 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 parlo Con amici Parenti Che ancora votano PD E ancora credono In questo In questo Incantesimo Quello sì Che è un incantesimo Soffro Perché Perché ci ho creduto Anch'io E li capisco E Capisco La forza Che ci devi mettere Con te stesso Per accettare Questa sconfitta Per accettare Che ti hanno preso Per il culo Capito È faticoso È faticoso Io faccio sempre Questo esempio qua Questa metafora Quando tu hai Un grandissimo amico E sei innamoratissimo Di tua moglie E poi un bel giorno Il tuo amico Ti dice Guarda Io e tua moglie Abbiamo una storia E a quel punto Ci sono due possibilità O come noi Del Movimento 5 Stelle Ricevi una botta devastante Dici Basta Ora cambio vita Vado incontro alla vita Faccio di tutto Non mi metto a piangere Non mi butto giù Ma faccio di tutto Per cambiare in meglio La mia vita La donna che avevo Non mi meritava Il mio amico Non mi meritava come amico E do la svolta Oppure fai come fanno Tantissimi italiani Da sempre Ti chiudi Dici Non può essere vero Non può essere vero No 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 Non è vero Non è vero No mia moglie è brava Mia moglie non farebbe mai Una cosa del genere No è il mio amico Un bastardo Che mi dice una cosa così Perché mia moglie Lui Lui anzi ci vuole dividere Lui fa schifo Eh lo butto via E resto con mia moglie Perché mia moglie è brava Brava E questo è quello Che stanno facendo Tuttora gli elettori del PD Con la differenza Che noi gli mettiamo Le foto Con la differenza Max Che noi gli mostriamo Le foto Dell'adulterio Tutti i giorni E quindi sono incazzati Con noi Gli stronzi Siamo noi Che prendiamo E fatti i cazzi tuoi Sì sì veramente Veramente E quando dicono Quando dicono Se Grillo continua a dire Queste cose Per forza l'economia Per forza l'economia Non si riprende Perché Con questo racconto Sistematico Dei drammi Eh ci stiamo facendo Una fotografia Di una realtà schifosa Che voi avete creato È tutto qua Quindi È sempre il solito discorso Il famoso detto Quando il saggio col dito Indica la luna Lo stolto guarda il dito E non guarda la luna Quindi te lo mette nel culo C'era pure questo Sì Ci può stare Io ti darei un bacione Ve lo do Ho visto che è arrivata la CRI Quindi ci sono delle news Per partire il collegamento Ripartita E riva Sta a far avanti e indietro Ripartita Quindi adesso che non c'è Possiamo parlare di sesso Di nuovo Delle mogli Dell'adulterio Delle donne Che siamo sessisti Noi possiamo Tanto con la Bachedua La Bachidua Ho fatto l'esempio Della donna adultera Vedi Quindi da maschilista Macista Quali siamo tutti noi Del Movimento 5 Stelle Avrei dovuto dire Come quando una donna Al marito Che la tradisce Però lì mi avrebbero detto Eh vedi poverina Una donna tradita dal marito Macista Maschile Quindi non Non ne sarei uscito vivo Io ti faccio Un in bocca al lupo Per sabato Sono sicuro Che andrete Alla grande Non riesco a venire Mi sarebbe piaciuto tantissimo Ma prima o poi A Bologna Vengo a trovarti Te lo prometto Salutami la piazza Salutami Beppe Salutami tutti Sarà fatto Sarà fatto Sarà una grande giornata Andremo a piedi O in bici O con gli autisti Che decidono Di non scioperare Per accompagnarci Ma non voglio assolutamente Chiedere a loro Di non scioperare Che è un loro sacro santo diritto Chiederei Alla CGL Alla Cisle Alla Will Di non rendersi così ridicoli E magari di convocare scioperi In orari In cui non è presente Il Movimento 5 Stelle Con eventi in città Ma pazienza Supereremo anche questa Perché vinceremo noi Bene Max Ti do un bacio Cristina vuoi salutare Max Sì Max Ti saluto Poi ti romperò le scatole Perché ci farai da collante Per la diretta di sabato Mi vedi? Ciao E resta con noi Guardati la diretta Anche perché Diversamente da ieri Avremo sia le telecamere Di Sky TG24 Sperando Che la connessione Sia buona Però riusciamo ad avere Anche lo streaming Prima dei ragazzi Così non vediamo solo Beppe E tra pochissimo Collegati Nuti Sant'Angelo E tutto il gruppo Quindi Ok Nuti Sant'Angelo E tutto il gruppo E sabato Sarà Una grandissima giornata Cri Un anticipo Domani Ti mando Un meraviglioso Video Per la nostra Robri Grandi voi Un abbraccio Ciao Allora Eccoci qua Dopo la letta